A volte ti fai domande, altre volte dici ma va a facco, quindi devo trovare questi maiali Oh ragazzi, e mi danno un botto d'esperienza, questo è un glitch Quali sono questi maiali? Vrebbero essere da queste parti Cioè non dovrei fare tanta strada, oh sì Vado all'alto, che si vedono meglio Non ho l'optifine per semplice fatto che non è ancora uscita, però 1.8 Ok Di qui No, secondo me qua va troppo avanti Ma mi dice dove? Sì, in questa regione Cioè da queste parti, non sto andando Oh cavolo Quindi Qua intorno Cioè li devo uccidere? Potevi dirmelo Ho andato esperienza, io ho preso l'esperienza e basta Piggi, piggi, eccoli dove erano i piggi Vieni qui Ma che cavolo? Riturati al mio heart e ti darò i gift Ok Io però ho un'esperienza ancora, se posso me la prendo Maiali con velocità 50 Ok Torno alla mia casa, mi ha detto ero Quindi devo salire, tornare sul monte innevato Sembrano un mapo banale Ma i circuiti di redstone e questi nuovi Chiamiamolo NPC Tutte queste cose nuove sono interessanti Questo scipo non dura niente Oh, era qui, non è che è scomparsa la casa Ah, ok, sono sti stupidi Salve Oh Ho, 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 ho prenduto questa scuola per conto È la gift che ti ho detto Ache, ho prenduto questa carnazina pregostosa Che piena di acqua ordine Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho Funziona con i magici portali. Sud, ovest, quindi. Sud, ovest, ovvero... Non puoi mancarlo. Ok, c'è praticamente dovevi visto quei portali, quindi sì, dovevo rimanere qui. Fico, spada di diamante. Però il fatto è che lui non mi ha dato, non mi dice quanti danni fa l'ha tolto. Ovviamente, magari può fare 50 danni come può fare un danno, eh. Cioè può essere anche depotenziata. Ma a noi non ci interessa. E poi magari può essere anche non incantata, perché c'è la possibilità di mettere questo effetto incantato che non lo è. Ho una spada di diamante che non fa niente. Sarebbe fichissimo. Aia. Portali. Dalla costruzione direi di qui. Ero brai. Più che ti uccido. Guarda. Ok, non posso. Sono sicuro che mi potrei vedere. Che figo. Barriere vero. Oh, che cavolo. Ti venisse un po' di bene, Herbrain. Paura di entrare. E' il diavolo. E' buio. E' buio. Questi tempi non sono ancora fuori, ma hanno già venuto per esibitare i loro poteri. Qualcuno. E' buio. E' buio. E' buio. E' buio. E' buio. Ma che cavolo di rumori sono? Muori. Oh porno in serio. Grazie per avermelo detto nei commenti eh. Ok. Allargata mosturosa. Dove sei? Non anticiparlo. No. Vabbè vita ne ho. Ciao Erobrain. Ciao. Come il prossimo campione. Oh. E' un zombie dorato che vola. Ma non fa danno. Oh. Apri. Apri. Turcha miseria. Oh. Si è aperto. Si è aperto. Non me ne frega niente. No. Ah. 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 Se l'Erebrine è fissato, arrivi e attacchi il suo cuore mentre è vulnerabile. Sì, rapidamente. Allora, guarda le creature con i piedi invisibili. Ciao. Tu sei? Quanti silverfish. Mori, 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 mori. Mori. Ciao. Slow. Blaze invisibili, Blaze invisibili. È un cuore. Carino. Dov'è l'altro silverfish? Cioè io devo ammazzarlo. Io ne ammazzo così, eh. No, è invincibile. Oh, oh. Ma che respawnano? Oh, ma che sono serio? Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Cioè io devo battere il cuore allora, devo uccidere? Posso dare fuoco? Dimmi di sì. Oh. Posso... Sono il cuore? Brucia? Ah, brucio anch'io. Posso uscire con questo? No. Con che cosa? Aia. Non posso prenderlo. Perfetto. Però state lontani. Ah, state lontani. Oh, oh, oh. Che goduri. Che goduri. Che fai, tenevallo? Ah, giri all'alto. Hai capito che non puoi fare niente contro di me? Eh. Comunque si stava bruciando il cuore. Via, 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 via. Poi mi dura un po' di più la fame. Ma era un cavallo. Che cavolo. Devo uccidere il cuore, ho capito. No, 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 via, 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 via. No! C'è solo un punto. Morto. Come perdo tutta la roba? Ah, qui almeno mi dai. Oh. Mi accendino. Mi accendino. Mi accendino. Ok. Mi accendino. E la mia spada. Dov'è? Qui. Non me ne frega morire. Deve bruciare. Brucia. È bruciato. Non posso. Ti capi? Dovevo usare l'accendino là sopra. Perché non posso metterlo voi da nessuna parte. Vai via, vai via. Sì, quella spada era potente. Perché tu hai diecimila di vita. se fosse lo zombo. O quello che mi interessa. Via. Acqua. Perfetto. Via 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 via. Niente. Dai, su! brucia dai dai di corsa si chi è? oh ciao amico che mi ha dato? tieni questo oh scarpe di là wow yeah è fichissimo ma che mi serve? hai finito non ti ho ringraziato abbastanza come? oh ma dimmi che posso piazzare l'ossidiana i blades sono scomparsi ma dai la tua esperienza oh oh mi avevo dimenticato il salto ciao ciao io anche tipo feather non posso subire danni da caduta sì li subisco e si è tornato indietro? qui è bloccato e sapevo che finiva un po' male che cavolo è ste particelle? fine del mondo? no siamo a livello 38 va bene e quindi è finito il mondo? veramente? le particelle ce l'ha messa lui ora mi danno fastidio ah mi rimane che bello fico e quindi? ah spawnava i mob qua so fico oh i circuiti di redstone quanto mi piacciono questa è una cosa del creatore l'ho notata per attivare un common block lui attiva mette questo mette oggetti esatto guardate questo è un clock oggetti che scompaiono dopo due secondi però se io ci metto il mio che dura cinque minuti finisco il clock non vi sto a far vedere tutti i clock perché sono tutti i clock personalizzati e sono tutti di questo manda quel rumore lì è mov obsidian quindi sposta l'ossidiana per far vedere il battito sono banalissimi non credo che vi farò vedere ma no tanto chi è? uccidi tutti gli orve uccidi tutti i pepistralli ora mi sorge un dubbio ah questo è dietro poi ok non c'è ancora più il mostro quindi era un pepistrello no era un ghast può essere sparava a palla di fuoco ok potrei metterli un po' dritti almeno vabbè magari l'effetto voluto lava che fa laggare il portone per aprirlo e chiudere come per aprirlo e chiudere oh come non c'è niente qui minima teletrasportato forza ma ma ora chi sei? zombie pigman che non s'arrabbia carino e queste sono barriere no vetro colorato bravo sgorca sgorca le porte che si aprono a parte qui luce bellissima questo è glowstone invisibile e infatti in mano non ho niente ok questi sono i soliti bug della 1.8 se non sbaglio no voi non vedete niente ma non mi cerca niente no scusate ok quindi cioè lui si apriva questo io entravo qui ovviamente dietro non c'è niente e lui mi teletrasportava fico ora con questa glowstone nera quindi se non mettete la texture diventa nera non è carina sta cosa ok zombie pigman non posso ucciderlo a meno che non sono in creative com'è che in creative potevo una volta va bene questo è tutto per la mappa spero che la mappa vi sia piaciuta un po' veloce un po' carina banale banale semplice spero di farlo in uno solo episodio e comunque noi ci vediamo nel prossimo video qui da Padme è tutto un saluto zombie cosa ho preso maiale e anche lo zombie fico ora testa finale boh ovviamente sono scomparsi tutto tornando qua mi dice qualcosa no sentite questo vuol dire che il cuore era fatto di lana il circuito di solito è qua sotto no eh la miniera abbandonata io adesso cercherò il diamante e noi ci vediamo al prossimo video qui da Padme è dalla torcia sbagliata è tutto un saluto all'Hulk ciao a tutti 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 Grazie a tutti